20 secondi a disposizione per commentare 20 fotografie scelte per descrivere il proprio progetto è arrivato a Cagliari Pecciaccia il nuovo format made in japan che sta spopolando in tutto il mondo l'appuntamento è per oggi alle 20 e 20 orario non casuale al chiostro della facoltà di architettura in via santa croce a Cagliari dove saranno presentati 11 progetti creativi siamo arrivati ormai alla quarta edizione e la risposta del pubblico e dei partecipanti è sempre più numerosa il nome giapponese appunto Pecciaccia che vuol dire chiacchierare in giapponese ed è stato inventato in uno studio di architettura di Tokyo nel 2003 noi l'abbiamo conosciuto all'estero questo chiacchierare consiste nella presentazione di progetti di vario genere creativo possono essere sia progetti di architettura quanto di fotografia quanto di musica di cortometraggi la particolarità è che i presentatori hanno a disposizione solamente 6 minuti e 40 divisi in 20 immagini in pratica dietro il presentatore c'è un mega schermo lui sceglie 20 immagini che scorrono ognuna per 20 secondi e tutto il progetto l'idea viene rappresentata in questi 6 minuti e 40 con 20 secondi per per immagine appunto a 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